Buonasera, oggi andremo a realizzare questo pezzo meccanico. Nei prossimi video andremo a realizzare, a rappresentare le altre viste, cioè una vista frontale, una vista laterale e una vista in sezione, con la relativa quotatura. Quindi adesso ci occuperemo solo della parte tridimensionale, quindi costruiremo il solido, il pezzo meccanico solido. Per farlo è un pezzo abbastanza semplice, perché è composto da vari elementi che si distinguono bene l'uno dall'altro. Cioè qua abbiamo una piastra a base quadrata con gli spigoli raccordati con quattro fori. Poi c'è piazzato qui un cilindro, un altro cilindro, e questo cilindro che ha la forma di un disco con quattro fori, e poi ci sono un foro con diametro 48 che arriva fino a un certo punto, e un foro con diametro 18 che passa, che unisce questa parte con questa. Quindi è una costruzione molto semplice. Il consiglio che do io è sempre lo stesso. Dividiamo la costruzione in varie parti, e poi le andremo ad unire col comando unione. Quindi i comandi che utilizzeremo sono più o meno sempre gli stessi. Quindi io apro AutoCAD, inizio a disegno, disattivo la griglia e attivo orto. Partiamo da questa piastra a base quadrata. Che dimensioni ha? Abbiamo la quota 50 e 50, che è la distanza tra il centro dei fori. Io voglio la quota totale. Come faccio a calcolarla? Abbiamo 50, a cui va aggiunto il raggio 10, c'è la distanza di 10, qui ci sono 10 mm, lo capiamo perché c'è scritto raggio 10, e 10 mm dall'altra parte, quindi sarà 70 per 70. Comando linea, clicco in un punto, 70, e costruisco un quadrato con lato 70. A questo quadrato andrò a raccordare gli spigoli con il comando raccorda. Ricordatevi sempre di cliccare sul raggio, il raggio è 10, invio, e vado a raccordare sui vari spigoli. Il comando, una volta che ha raccordato, diciamo, si chiude. Quindi io con la barra spaziatrice o con invio lo ripeto. Una volta che ho raccordato gli spigoli, torno a osservare il mio disegno, e noto che ha 4 fori. Questi fori, che per adesso sono dei cerchi, questi cerchi o questi full, hanno, diciamo, condividono con questo raccordo il centro. Quindi io andrò, posso attivare il comando o cerchio centro raggio o cerchio centro diametro. Qual è la differenza? Ho la quota del diametro, diametro 10. Quindi se io attivo il comando cerchio centro raggio, andrò a mettere raggio 5. Come faccio a trovare il punto esatto? Mi avvicino a questo arco, mi si attiva lo snap centro, ci clicco sopra, e in questo caso premo direttamente invio, perché vedete qui, ricorda l'ultimo raggio inserito, che era 5. Lo ripeto 4 volte, e ottengo i miei cerchi. Comando linea, creo un asse, in modo tale da piazzare un cerchio qui al centro. Questo cerchio ha diametro 18, quindi o raggio 9, oppure clicco qui, diametro 18. Stessa cosa. Questo asse non ci serve più, ho creato già una vista della mia piastra. Devo fare la regione, la facciamo subito, regge, seleziono quindi sia i raccordi che le linee, quindi tutto il perimetro, e premo invio. Se tutto è andato a buon fine, creazione eseguita di una regione, e in più passandoci sopra, mi accorgo che è tutto un unico elemento. Mi sposto un po' qui a fianco, comando cerchio, vado a fare un cerchio con diametro 120. Perché diametro 120? Questo qui, questa parte qui, quindi questo disco, diciamo così, ha un diametro di 120. Che altro dobbiamo andare a rappresentare? Un cerchio al centro qui, che poi una volta estruso e sottratto diventerà questo a parte, questo foro qua praticamente, con diametro 48. Quindi cerchio centro diametro, attivo lo snap centro, 48. Comando linea, anzi, inutile andare a fare il comando linea, tanto sono solamente, diciamo, quattro fori che stanno distribuiti qui. Qua dice, quattro fori, quattro cerchi in questo caso, diametro 12, con un, diciamo, che giacciono su una, diciamo, traiettoria circolare, con diametro 90. Quindi che cosa devo fare? Cerchio centro diametro. Attivo lo snap centro, clicco, vado a fare un cerchio con diametro 90. non è, diciamo, non occorre andare a fare la serie polare, perché qui i cerchi sono uno sopra, uno sotto, uno a destra e uno a sinistra, precisamente, diciamo, nel quadrante, nei quattro quadranti di questo, di questo cerchio. Quindi vado su cerchio centro diametro, clicco qui, vado sul disegno, e vado a vedere, diametro 12, mi l'ho dimenticato, quanto era il diametro? 12. Posso andare a fare gli altri, oppure seleziono questo, tasto destro, copia, lo prendo dal centro, e lo vado a copiare sugli altri tre quadranti. Ovviamente, per trovare il punto, diciamo, quel punto preciso, cioè il quadrante del cerchio, deve essere attivo lo snap quadrante. Questo cerchio non mi serve più, non devo fare regioni, perché i cerchi sono già una regione, in sé per sé. Stop, ho finito con la parte 2D. Cambio vista, SO assonometrico, e vado ad attivare il comando Estrudi. Con Estrudi, seleziono questo perimetro, più i quattro cerchi. premo invio, e ovviamente, decido di andare, o verso l'alto, o verso il basso. Io, in questo caso, andrò verso l'alto, vado a vedere quanto è spessa questa piastra, da questa vista, 20. Quindi, vado verso l'alto, 20. Ok, questo fuoco, questo cerchio, per adesso lo lascio così come. Adesso, solito trucchetto, non è obbligatorio, però, per differenziare, le linee di costruzione, le faccio col colore rosso. Linea, vado a fare una linea, che parte, da questo punto centrale, a questo. in modo tale, da sfruttare, il centro, il punto centrale, di questa linea rossa, per andare a costruire, un cilindro, quindi, chill, lo piazzo qui, nel punto centrale, qua mi chiede, specificare il raggio della base. Devo andare a costruire, praticamente, questo. Qua mi dice, in questa vista, diametro 42. Quindi, mi basta cliccare su diametro, 42, invio, vado verso l'alto, ormai non posso più andare verso il basso, prima avevo scelto, adesso non ho più scelto. Vado verso l'alto, di 50, e premo invio. Questa linea, non mi serve più. Questo cilindro, stesso discorso di prima, comando linea, unisco questi due punti, questo magari li cambiamo già colore, altrimenti facciamo confusione, comando cilindro, invio, piazzo il cilindro qui, vado a vedere sempre, il diametro di questo, qui non c'è, qui c'è 72, diametro 72, quindi diametro, 72, invio, e devo andare, devo andare ad estruderlo, di 130, ovviamente verso l'alto, e premo invio. Stesso discorso qui, cambierò il colore, poi a questo cilindro, che ho appena realizzato. quindi, la linea, la cancelliamo, non ci serve più. Il cilindro, cambiamo il colore. Allora, vediamo un attimo che cosa abbiamo realizzato, in modalità realistico. Ok? Adesso posso andare già, a fare qualche altra operazione, quindi senza andare ad aggiungere questo, perché poi magari, si vanno a sovrapporre più linee, perché lavoreremo sempre in wireframe, per fare queste operazioni, temporeggiamoci, e questo lo lasciamo un attimo in disparte, però, diciamo, possiamo proseguire come vogliamo, io sono benissimo in grado, di piazzarlo qui, e andare a vedere tutte le linee, che corrispondono, che non corrispondono, però, per semplificare questa operazione, questo lo lasciamo un attimo qui in disparte, e lo andiamo poi a destrudere, e a piazzare qui, in un secondo momento. Quindi, wireframe, posso andare a fare già, sottrai, a questo, invio, sottraggo, uno, due, tre, e quattro, invio, e ho creato i fori. Poi posso andare a fare, unione, seleziono questi due, più questo, e premo invio. questo cerchio che avevamo lasciato, adesso posso estruderlo, fino ad uscire. Quindi, estrudi, lo seleziono, e vado fuori. Ovviamente, sottrai, a questo solido, perché ormai intanto è diventato un unico solido, invio, sottraggo questo. Ci fa il foro rosso, non è un problema, selezioniamo tutto, e li cambiamo il colore. Ok, dedichiamoci adesso, quindi, a questa parte. Estrudi, come prima, seleziono il perimetro, più i fori, premo invio, se non erro, la piastra è alta 20, questo disco qui è alto 20, sì, vado sempre, in questo caso, mi conviene andare, verso il basso, vado verso il basso, 20, invio, perché sono andato verso il basso, e non verso l'alto, perché praticamente adesso, andrò a spostare, dopo aver fatto, sottrai di questi cilindri, eccetera, eccetera, andrò a spostare questo, così come sta, qui sopra, che cosa succede? che mi trovo il cerchio, diciamo, sulla testa, in modo tale che questo cerchio, lo vada a destrude, lo faccio diventare un cilindro, quindi, estrudendolo, lo sottraggo, e ottengo, diciamo, il foro con diametro, se non erro, 48. Se invece, avessi fatto il contrario, quindi, avrei fatto il comando estrudi, andando verso l'alto, avrei dovuto poi capovolgere questo solido, il nostro disco, per poterlo poi piazzare, quindi, io sono andato direttamente verso il basso, e ho evitato un'operazione. il comando sottrai, invio, a questo, invio, sottraggo, i quattro cilindri, in modo da creare quattro fori, invio, e lo abbiamo già fatto. Come faccio a piazzare precisamente questi? Allora, proviamo così, seleziono questo, tasto destro, sposta, mi dà due centri, uno relativo alla faccia di sotto, e uno relativo alla faccia di sotto, lo prendo da quello di sotto, e lo piazzo qui. Ho dimenticato di spostare questo, quindi torno indietro, riprendo tutto, tasto destro, sposta, vedete, mi escono due centri, prendo quello inferiore, e lo sposto qui. Realistico, il pezzo, abbiamo adesso, questo solido che è già finito, più questo disco, con un cerchio al centro. non c'è bisogno di andare a fare unione, questo con questo, perché adesso estruderò questo cerchio, e andrò a fare direttamente sottrae, a questo e a questo, sottraggo il cilindro. Che cosa succede? Che ve li unisce, cioè quando voi andate a fare l'operazione sottrae, a due solidi, ve li unisce in automatico, cioè quindi vi fa, vi sottrae qualcosa, e li unisce. Tolgo il realistico, e vado in wireframe. Allora, questo qui lo devo estrudere, quindi estrudi, invio, prendo questo cerchio, magari facendolo rosso, si nota un po' di più la differenza, però non è un problema. Premo invio, ovviamente vado verso il basso, di quanto devo andare verso il basso, vado a vedere, il mio disegno. Che cosa noto? Noto che questo spessore, io non ce l'ho, e neanche questo, però, questo qui me lo posso ricavare. Come lo faccio a ricavare? So che questo cilindro qui, ha un diametro di 72, mentre il foro qui, ha un diametro di 48, quindi dovrò fare, per ottenere questa distanza, e anche questa, dovrò fare 72, meno 48, cioè 24, però 24 è lo spazio che c'è da questo punto a questo punto, più lo spazio che c'è tra questo punto e questo punto, quindi devo fare, 24 diviso 2, è 12, quindi vuol dire che questo spazio è 12, e questo spazio qui è 12, perché qua non c'è, diciamo, non è quotato da nessuna parte, però è equidistante, no? Si vede che è equidistante, quindi che cosa vado a fare io? Andrò a fare praticamente un'estrusione di 130 più 20, sono 150, meno, no? Guardate, noi partiamo da qui, stiamo partendo, quindi 20 più 130, sono 150, e siamo arrivati qui, meno 12, in modo da, diciamo, da tornare indietro, quindi 138 è la profondità di questo foro, e lo andiamo a fare. Comando sottrai, a questo e questo, invio, sottraggo questo, invio, ovviamente, cambiamo il colore a tutto, mettiamo il realistico, vediamo se abbiamo saltato qualcosa, non credo, l'unica cosa ci è venuto in piedi, ripetiamo quello che abbiamo fatto, diciamo, le altre volte, in modalità realistico, in modalità realistico, cliccando sul solido, in questo caso, mi escono queste tre frecce, a che cosa servono queste tre frecce, questi tre assi, cliccandoci sopra, ad esempio, adesso vado a cliccare su quello rosso, posso spostare il solido, in questa direzione, o avanti o indietro, cliccando su quello blu, posso andare su e giù, quello verde, posso andare in questa direzione, o in quest'altra, però, se io ci clicco sopra, col tasto destro del mouse, posso selezionare ruota, in questo caso, voglio ruotarlo, seguendo l'asse rosso, quindi ci clicco sopra, l'error ruoto, in questa maniera, primo ESC, diciamo, l'ho disposto in maniera simile, al nostro progetto, comunque, in ogni caso, è indifferente, come lo vado a costruire, perché abbiamo visto che su AutoCAD, possiamo spostarci come vogliamo, con orbita libera, si vede, all'interno, ok, quindi nei prossimi video, andremo ad occuparci, come ho già detto, di questa vista, di quest'altra vista, e della sezione. grazie a tutti. Grazie a tutti.